Lei non ci può venire, ti pare? Comunque i commetti non devono essere negativi, si sta registrando il tutto, qui siamo nella zona della bandiera, eravamo andati a cercare dei dormietti, li abbiamo trovati, era anche no, comunque ora l'amica Katia le fa vedere, tira su il cosino, insomma vabbè, aspetta eh, andiamo più qui da vicino, niente di eccezionale, ma nemmeno una pedata nei ginocchi, come si dice, questo è un piccolo video con alle spalle una cascata d'acqua, deliziosa, si sente il rumore dell'acqua, bisognerebbe stare zitti di modo che la natura si riappropria dei propri rumori e della propria voce. Sono stanchi? Sono stanchi, io no, ma che? Va bene? Allora è girato espressamente ed esclusivamente per la Katia e Alessandro, sua figlia non c'è perché è a un matrimonio e oggi non è potuta venire, mi dispiace, comunque ora siamo a un minuto e spiccioli, la sta girando Sandro e lo metterà sul web in onore e ripeto visibile esclusivamente alla Novi Katia. ragazzi, un saluto, arrivederci, grazie della compagnia, riprendo un attimo la cascata che c'è alle spalle. Non lo accontiamo più. No, no, ci siete ancora due e io sto prendendo voi e la cascata, guardate che delizia. Grazie a me la cascata. Siamo in piena boscaglia comunque, è un bosco di abeti e faggio, una cosa meravigliosa, c'è un sentiero che è una delizia. Sandro gira, ti guarda, ti figgio l'antropico. Mi scappa. Psst.